Noi utilizzavamo già tecniche tipo fast track, cioè recovery veloce. Oggi Rosa ha portato a un accorciamento dei tempi di recupero. Notiamo un minor dolore del paziente nelle prime giornate postoperatorie, addirittura facciamo camminare il paziente in prima giornata e la dimissione avviene nel giro di 3-4 giorni per ritorno al domicilio con una gestione della fisioterapia al domicilio in centri specializzati di fisioterapia vicino al domicilio del paziente. La struttura è snella, si occupa solo di ortopedia prevalentemente, esegue più di 2.000 impianti all'anno. Noi in un anno abbiamo fatto 140 interventi robotici di chirurgia solo, di chirurgia protesica totale di ginocchio perché attualmente il modulo Rosa prevede in Europa solo la protesa totale di ginocchio. A breve arriverà il modulo per le protesi monocompartimentali, c'è le protesi piccoline che curano solo una parte del ginocchio dove noi siamo già punti di riferimento alla mia persona quindi sarà un ulteriore gradino, un ulteriore miglioramento per la cura del paziente e nel giro di un anno è già stato FDA approved perché tutto quello che viene fatto in Italia, essendo un'azienda americana, prima di essere approvato negli Stati Uniti è stato approvato già il modulo ANCA quindi faremo interventi per via anteriore anche di protesi d'ANCA con la tecnica robotica.